Radiolinea numero uno presenta lezioni di cinese. Eccoci pronti! Come sempre la nostra lezione di cinese c'è e a Radiolinea c'è Francesca Stangoni! Mi hao! Che è impazzita la professoressa! Ormai siamo in famiglia. Che significa questo? Che vogliamo una famiglia. Come si dice? Ho capito? Io e te, Freddy, siamo una famiglia. Secondo lei perché la silenzi quando parla in cinese? Insomma! Ma lei è similissima! Mi ha detto un mio amico che... Guardami! In più si è comprata il Cipao! C'è il Cipao perché vuole fare la concubblica lei o lei? Guarda qui, guarda qui col mio colletto alla coreana, quello che noi chiamiamo colletto alla coreana. Cioè il cinese c'è colletto alla coreana. Allora, oggi noi siamo al mercato ortofrutticolo. Ecco qua! E vogliamo comprare della frutta e della verdura. Freddy! No, perché io? No, Freddy! Freddy, che cosa volresti comprare? Allora, innanzitutto... Intanto chiediamo, cosa compra? Nima e Shama? Cosa vuoi comprare, Freddy? Vorrei comprare, per esempio, che ne so, della frutta di stagione, ecco. Sì, per esempio. Tipo delle banane. Ecco! Ecco! Non avevamo dubbi! Cianciao! Oppure... Pinguo, le mele. Ah, mi sa che sono banane grosse. Scusami, in Cina ci sono dei frutti particolari, tipo quella cosa, tipo il frutto della passione? Sì, sì. Ci sono, sono buonissimi, per esempio, i lici. A pare che sono poi afrodisiachi. Ah, sì, sì, afrodisiachi. Freddy, ne hai bisogno. Io non ho. I lici. I lici. I lici si trovano anche qui. Comprateli, li trovate. C'è la possibilità di chiedere delle banane... Più piccole, più grandi. Certo, per esempio, tu prendi quelle e dici... Tai, tal. Che sarebbe? Troppo grandi. Ma comprando, per esempio, delle fragole, ananas, cos'è? Melone, per esempio. Melone. Melone. Cigua. Ma è sempre tutto quanto così musicale, vedi? Se vuoi le arance, giuz. E i giuz. Che assomiglia un po' a giuis. Giuis, un po' subito. Le pere, liz. Liz hai due belle... No, questo non c'entra nulla. Come si può dire? Mi dia due belle pere. Cinghe uo liang piao liang liiz. È un po' lunga, però. In italiano è più veloce. Allora, uo yao liang liiz. E dulcis in fondo, chiediamo quanto costa. Tuo shao qian. Uo laifu. Troppo caro, come direte? Io ce l'ho sempre sulla punta del... Ah, tai guen. Tai guen. Bravissimi. Un po' caro si dice anche nei negozi... Cimpu, cimpu. Progressi, progressi. Vigliamo. Oh, grazie, grazie. Bene, bene, bene. Oggi mi sento soddisfatto perché so come si dice banana troppo grosso e piccina, banana piccina. Tai shaola. No, no. Non ci piace. Grazie Francesca. Al prossimo appuntamento. Ciao. 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 Basta. Ma che stai rispolverando tutte le parolacce? Non è vero. Ragazzi, poi ci sarà la verifica finale. Oh, santo cielo. L'ultima lezione. Stasera vengo a casa tua e mi presti gli appunti. Non venire per la banana perché li ho già date alla mia amica. Non ce ne ho più. Beh, farete scambio di frutti. Grazie. Eh, ma la soressa sì.